Allora vuoi passare a un livello superiore oppure sei contenta cos'è? Prendiamo al grande passo Devi tenere d'occhio questa nuova ragazza Bisogna assicurarsi che i clienti siano sempre felici e a proprio agio Per il ciclo nel segno del giallo Mi sono innamorata Oh In prima visione assoluta Tu dovevi obbedire agli ordini perché ora è troppo tardi per farlo Peccati ad alta quota Questa sera 21.05 RAI 2